Buongiorno a tutti, sono Daniele Maggiore, CEO della BAM International di Ginevra, che organizza per il 29, 30 e 31 ottobre 2021 il GMBC, Geneva Music Band Contest. Dico che organizza, perché ci siamo, questo è l'anno nostro, siamo convinti che possiamo organizzarlo e siamo convinti che possiamo organizzarlo nella maniera che abbiamo indicato nel regolamento, quindi con tutte le orchestre, con la giuria presente, con tutti i meeting che abbiamo già pensato di fare e di cui vi parlerà poi dopo il maestro Mazza che è qui con me a a parlarvi e a dirvi tutte le novità che abbiamo deciso insieme al comitato direttivo. È chiaro che è un momento molto difficile, è chiaro che abbiamo pensato che finalmente con l'arrivo dei vaccini la pandemia possa finire, ma ancora non è facile il momento di dire sì, è finita, dobbiamo ancora aspettare, dobbiamo ancora vaccinare tantissime persone, quindi siamo convinti che per il mese di ottobre riusciremo a fare qualcosa. Nel caso noi avessimo dei problemi per poter fare di persona il GMBC abbiamo già preso delle decisioni, un classico piano B, di cui vi parlerà poi dopo il maestro Mazza. Quindi mi raccomando, riservate le vostre iscrizioni, partecipate, ci sono già varie orchestre che partecipano, ma siamo contenti che più siamo, meglio stiamo. Maestro Mazza, a lei la parola. Salve a tutti. Come ha detto lei, il concorso internazionale GMBC speriamo tutti quanti possa svolgersi senza alcun problema nella sua forma più completa e naturale. Se così non dovesse accadere, cioè che l'emergenza si protragga ulteriormente, abbiamo pensato ad un'alternativa, proprio perché le bande, le orchestre, tutte le formazioni musicali non vedono l'ora di potersi rimettere a produrre la loro musica suonando ed allietando il mondo intero con i loro suoni. Per cui abbiamo pensato di mantenere comunque gli incontri prefissati durante le giornate del concorso, che ricordo, come ha detto lei, saranno sempre il 29, 30 e 31 ottobre 2021 nella città di Ginevra. Quindi manteremo i nostri cinque appuntamenti che sono la donna nel mondo delle bande, in collaborazione alla neonata associazione europea delle donne direttrici, l'editoria per banda, le bande e i direttori d'oltreoceano, la masterclass di tromba con il grandissimo Adam Rapa e l'incontro con il compositore. Mentre le fasi del concorso GMBC, vero e proprio, avverranno tramite l'invio di video da parte dei gruppi iscritti secondo un regolamento ben chiaro prodotto da noi e pubblicato, nel caso di quell'evenienza, sulle nostre pagine. I video che ci perverranno saranno valutati durante le tre giornate del concorso dalla prestigiosa giuria internazionale riunita comunque a Ginevra. Dopodiché verrà comunicata e pubblicata la graduatoria di merito ed inviati i rispettivi premi. Mi raccomando, riservatevi la vostra iscrizione perché il GMBC si farà. Ci sono già molte orchestre ma vorremmo comunque fare una grandissima festa della musica. Allora mi raccomando tutti quanti pronti a venire al GMBC e settimana prossima vedrete un nuovo video di presentazione in cui saranno presenti una donna direttrice d'orchestra, l'organizzatore del GMBC e il direttore artista. Quindi mi raccomando tutti quanti attenti la settimana prossima e così sarete tutti in piena sintonia con noi. A presto, arrivederci e buona musica a tutti. Arrivederci a tutti.